Abbiamo anche il secondo finalista del Mutuo Madrid Open, infatti Struf batte Aslan Karatsev in tre set e giocherà domenica la finale del Mutuo Madrid Open, il primo lucky loser della storia a disputare una finale in Masters 1000. Disputerà questa finale contro Carlos Alcaraz. Prima di passare come sempre al dunque e al video di oggi, secondo video giornaliero, io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale. Forza forza stiamo a 186 iscritti, l'obiettivo è raggiungere i 200. Prima dell'inizio del Roland Garros mancano ancora 20 giorni, anzi 23. Per l'esattezza l'obiettivo è raggiungibile, dobbiamo fare un iscritto ogni due giorni. In realtà poco più di un iscritto ogni due giorni, quindi mi raccomando iscrivetevi e soprattutto lo dico per voi, attivate la campanellina. Perché se non attivate la campanellina non, vi arriveranno notifiche di video, io i video non li faccio uscire ad un orario determinato. Perché dipende dalle partite, questo video sta uscendo alle 23, l'altro video è uscito alle 8, magari un giorno un video esce alle 9 di mattina. Insomma, tutto può variare. L'unico lasso di periodo, lasso di tempo, scusatemi, dove avrete dei video che usciranno ad un orario determinato sarà quest'estate, ma ve ne parlerò in un altro contenuto. Allora, Aslan Karatsev, scusatemi, Struf batte Aslan Karatsev, lo batte per 3-6, 6-3, 6-3 se non vado errato, adesso questo dovrebbe essere lo scorso, comunque sia lo batte in 3 parziali. La partita, scusatemi, ho sbagliato il risultato, si conclude per 4-6, 6-3, 6-4 in favore del tedesco. Infatti, giocherà la finale contro Carlo Sarcaratsev, domenica 7 maggio alle ore 16, se non sbaglio, adesso vi do lo conferma, no, sarà alle ore 6 e 30. Mi sono sognato qualcosa. E niente, un lucky loser in una finale di un Masters 1000. Io credo che se me l'avessero e se l'avessero detto a qualsiasi di voi, credo, all'inizio torneo che Struf sarebbe arrivato in finale, io credo che nessuno, e sottolineo, nessuno ci avrebbe creduto. Avremmo resi in faccia a costui che ci ha detto questa, che ci ha dato questa informazione, perché pensavamo che sarebbe stata sicuramente falsa. Invece no, è vero, Struf disputerà la sua seconda finale ATP, è una finale di un Masters 1000, sulla terra battuta. Infatti, dopo la finale a Monaco, la sua seconda finale ATP sarà in quel di Madrid. Sicuramente, per l'appunto fortunato, perché a tal lui non doveva nemmeno essere nel tabellone principale, ma alla fine si ritrova nella finale. A contendersi il titolo contro, Carlos Alcaraz. Beh, questa finale, ragazzi, io credo che, anche se fosse arrivato Karacev, che ha avuto anche qualche acciacco fisico nel terzo set, a metà terzo set all'incirca, beh, io credo che Alcaraz sia il netto e il logico favorito per questo incontro. È il numero due al mondo, sto giocando al numero uno al mondo, non so se diventerebbe una della race vincendo una red, non credo. Però, comunque sia, se dovesse vincere Parigi, sicuramente sì. E a meno che Mietti, se magari non faccia finale, non ottenga risultati migliori di quelli di Alcaraz, precedente a Parigi, ma la vedo veramente complessa. Insomma, Carlitos è vero, non è che stia giocando il suo miglior tennis in questo torneo di Madrid, ma comunque sì, alla fine si porterà a casa verosimilmente il quarto Masters 1000 in Bacheca. Quindi, c'è poco da dire, ragazzi. Chi vince ha sempre ragione, ricordatevi questo. E in questo caso Alcaraz ha ragione. Alcaraz che sta giocando veramente benissimo. In questo 2023, per il momento, 28 vittorie e solo due sconfitte. E ripassiamo i tornei disputati quest'anno da Carlos. Si presenta a Buenos Aires, sulla terra abbattuta argentina, e conquista il titolo in finale contro Cameron Murray. Chiude con un dropshot, suo colpo che magari potrebbe diventare un signature shot, come magari potrebbe essere il tritto a banana di Nadal, eccetera. Poi abbiamo la finale, poi a Rio de Janeiro, disputa al torneo di Rio de Janeiro e perde in finale, ma solo perché era infortunato. Perché qualora, ragazzo, fosse stato fisicamente al 100%, quella partita non avrebbe avuto differenti storie da quella di Buenos Aires. Invece, poi si presenta ad Indian Wells e conquista il titolo, dominando e massacrando nell'immietro del finale, che era una striscia di vittorie di 18 partite di fila. E poi si presenta a Miami, dove perde in semifinale solo da Yannick Sinner, che gioca una delle sue partite migliori di sempre. Una partita di livello strepitoso. Invece, poi, si presenta a Parcelona, dopo un infortunio che lo ha tenuto in box, fermo in box, e che lo ha fatto saltare Monte Carlo. E vince il Godot, invece, adesso, si trova in finale a Madrid. Io credo che Alcaraz sia il favorito per questo torneo, per Roma e per Roland-Ros. Beh, ragazzi, per come sta giocando Alcaraz, io credo che sia difficile fermarlo. Chi potrebbe fermare Alcaraz dal conquistare Roland-Ros, oltre agli infortuni, che secondo me è l'unica minaccia significativa al suo potenziale secondo slam e primo slam sulla terra, battuta? Beh, cosa potrebbe fermarlo? Allora, Djokovic in grandissima forma. Però, ragazzi, per come sta giocando, per come ha giocato i primi due tornei dell'anno, è veramente tesa la cosa. Però, magari, riesce a ritrovare forma in quel tiro, ma lo vince anche o comunque si ottiene un grande risultato. Nadal, verosimilmente, anzi, non diciamo verosimilmente perché forse è esagerato, ma probabilmente non giocherà nemmeno a Roland-Ros e qualora dovesse giocare, lo farebbe in condizioni, secondo me, infime. Io, come vi ho detto nel video di qualche ora fa, credo che Nadal lo rivedremo per la prossima stagione di tutta la battuta. Io non credo che lo rivedremo prima. E, anzi, magari, magari domani avremo un video di Nadal che sia, cioè, tra due settimane, quando dirà anche che non giocherà a Roland-Ros e magari inizierà ad allenarsi su erba. Ma io non credo che Nadal abbia qualche chance di tornare pure a Wimbledon, insomma, non lo vedo improntato a un rientro così. Io credo che Nadal, se torna per la prossima stagione di tutta la battuta, forse lo toglie sopra, ma forse. La vedo difficile pure per quello, francamente. Poi stavo dicendo questo, insomma, è un Alcaraz che, secondo me, è proiettato verso la riconquista della vitta del ranking mondiale e alla conquista del primo slam parigino. E dopo aver fatto questo preambulo, ovviamente vi dico che Alcaraz per me è nettamente favorito. Io credo che vinca in due, chi vincerà in due non vede come Strouff possa insediarlo. E si gioca a Madrid, secondo me, il torneo perfetto per un giocatore come il Morsiano. Io credo che questa partita non avrà, non vi dico che non avrà storie, ma comunque si avrà poche. Poi, parliamo un attimo della finale femminile di domani, che sarà tra la testa di serie numero uno e la testa di serie numero due, le migliori due giocatrici del circuito. Insieme ad Elena Ribachin, infatti, la VTA Race cita proprio al primo posto la Sabalenka, al secondo posto la Ribachin, al terzo la Sviontek. Non so se la Sviontek, conquistando potenzialmente il VTA 1000 di Madrid, salirebbe e scavalcherebbe la Ribachin e salirebbe al secondo posto, però comunque sia, credo che Sviontek sulla terra battuta, sia la miglior giocatrice del circuito femminile attuale, anche degli ultimi recenti anni, forse. Sarà una finale bella, secondo me sarà una finale più bella di quella maschile, il torno femminile rispetto a quello maschile ha avuto meno sorprese, infatti, alle semifinali, non alle semifinali, però comunque sia, alle semifinali ci stavano due giocatrici, dalle prime quattro teste di serie e agli ottavi, se non sbaglio tutte le giocatrici, tranne una forse, erano delle teste di serie, quindi meno sorprese qua, la finale più attesa è stata la finale, alla fine, sarà la finale di Madrid, tra Iga, Sviontek e Arena Sabalenka, tra le due chi vedo favorita, vedo favorita la Sviontek, è vero, voi mi direte che sono condizioni rapide, tutto, eccetera, però io vi dico anche che la Sviontek è la migliore giocatrice tutta la battuta, essendo che si gioca in altura, questo potrebbe, secondo me, favorire la Sabalenka, rispetto magari a una finale di Roma tra questi due, dove vi dico che la Sviontek è favorita abbondantemente, perché nettamente probabilmente è un'esagerazione, e abbiamo visto queste due giocatrici si sono affrontate come ultimo incontro, allora, i sconti diretti, se non sbaglio, stiamo 5-4-2 per la Sviontek, l'ultimo sconto è stato proprio la scorsa settimana nella finale di Stoccarta, concluso, si, concluso, si è concluso in favore di Iga Sviontek, 6-4-6-3, poi abbiamo avuto anche nel 2022, insomma, alle UTA Finals, in corso, in semifinale, vinto dalla Sabalenka in 3-7, in 3 parziali, poi allo US Open ha vinto la Sviontek in 3-7, secondo me questa è una gran, sarà una gran finale, però vi dico che Iga Sviontek secondo me vincera in 2, è vero che si gioca in altura, ma pur a Stoccarta si giocava in door, quindi con il segno un po' più anomale per una terra battuta, però alla fine ha vinto sempre la Sviontek sulla terra battuta, credo che lei sia la domenatrice del circuito femminile per questa stagione, ma anche per le stagioni a venire, a meno che non ci siano problemi fisici di importante, di importante serietà, come potrebbe essere un infortunio alla Svere, perché non se lo augura nessuno ovviamente, però la Sviontek la vedo veramente proiettata verso una ennesima conquista, ennesima non sarebbe la terza, ennesima non potremmo dire con Natal, comunque è improntata verso il bis parigino, il traghissi in realtà, ma il bis consecutivamente. Io vi ringrazio tantissimo per l'evoluzione di questo video, noi ci becchiamo domani con il commento della finale femminile, e poi ovviamente domenica con il commento della finale maschile, lunedì passate nel canale di The Men on the Sports, il grande Walter, perché ospiterà la live del salottino del tennis, alla quale ci sarò anche io e Alessio e Lorenzo, passione del tennis, insomma, e Alessio del tennis. Grazie a tutti per l'evoluzione, ci becchiamo, alla prossima nuova video, ciao!